Allora, primo gol in Granata e che gol? Insomma, un gol fatto esplodere i 20.000 entusiasti dell'Olimpico, insomma, una notte che ti ricorderai lungo. Vabbè, sicuramente non sono troppo contento, dai. Ci voleva per me, per la squadra, per tante cose ci voleva. Era un periodo che, insomma, sono arrivato, ho avuto subito qualche occasione nelle prime partite, purtroppo non sono andate bene. Però dai, meno male, è arrivato, secondo me, nella partita più importante finora. Ricordaci quel gol, hai avuto l'istinto del goledore da seduto? Sì, Antinucci è andato al cross, l'ha data troppo dietro, è arrivato il difensore, la palla non so come si è alzata, probabilmente è andata scivolata il difensore. Io ero già a terra perché sono scivolato e ho fatto la rovesciata a terra, la sono trovata lì. In casa ormai siete una squadra incredibile, avete fatto tre vittorie di fila, nove punti, siete tornati capolista anche con un discreto margine. Può essere una notte veramente importantissima nella lotta verso la Serie A? Sicuramente, insomma, non c'è bisogno di sottolinearlo perché già aver vinto con la Sampdoria, che comunque, secondo me, è la squadra dopo di noi più forte. Sulla carta, insieme a Pescara, comunque, stanno facendo bene, Sassuolo, Verona. Secondo me la Sampdoria è quella con più qualità di quelle. Seconda cosa per me, sull'1-1 avete avuto il timore di non farcelo, una partita che, insomma, potevate chiudere il primo tempo, c'è stata questa beffa del gol bluciarchiato, che sembra un po' un segno del destino, invece avete avuto la forza di andare a seguire il 2-1. Vabbè, certo, altrimenti non avremmo vinto, se non ci credi non viene mai il gol così a caso. Infatti siamo andati a pressare il partito da me, il pressing, e poi sul racco, insomma, c'era troppa voglia di fare bene. Poi, insomma, il gol può arrivare o non arrivare, perché è questione a volte anche di fortuna, ma la cosa è sicura che ci abbiamo creduto.